ok allora le soluzioni sono queste sono abbastanza semplici io diciamo premo la barra e spaziatrice per iniziare osservo che qualunque gioco dovrebbe avere un minimo di istruzioni anche se ci sono dei giochi su cui uno può andare in esplorazione quindi apposta non danno istruzioni ok eccolo la diamante è quello diciamo l'obiettivo è cercare quei diamanti quando si cerchi se si prendono ok si è salita il livello 2 l'ostacolo andare indietro ma non fa perdere energia se perdo energia punto torno indietro al livello altrimenti vado vado sotto chiamano ricerca di diamanti questo devo prendere da sotto ok vabbè 9 10 adesso vado a livello 3 qui a livello 3 cerco di nuovo il diamante e poi c'è una fase finale 14 per catturare un personaggio eccolo la stalla quando l'abbiamo catturato abbiamo vinto il gioco finisce c'era anche l'altra l'altro evento l'altra diciamo opzione che è quella di perdere tutta l'energia si arriva a livello 0 quando si perde l'energia si perde allora il giochino l'avete visto questo è l'ambiente di game lab si chiama che è l'ambiente è l'ambiente game lab quindi quello quello per giocare ed è un ambiente punto tipico di codorg di programmazione insomma tipo app lab sprite lab e così via in cui il codice può essere visualizzato sia nella modalità blocchi che è quella diciamo appunto più iniziale sia nella nella modalità testuale che quella siamo poi un po più conveniente per soprattutto quando il codice abbastanza abbastanza corposo quindi io lavoro in questa in questa modalità allora la cosa fondamentale di questo ambiente questo è un ambiente particolare che è orientato ai giochi e quindi quello che che viene fatto quello che viene fatto lo trovate diciamo è semplificato quando questa funzione trovo questa è la funzione che l'ambiente invoca continuamente per eseguire il gioco ok quindi qui voi trovate prima una serie di variabili che definiscono gli oggetti con cui uno vuole lavorare poi ci sono delle 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 funzioni di inizializzazione e poi c'è la funzione draw che cosa fa l'ambiente che sta dietro l'esecutore che sta dietro legge il codice legge il codice e si crea lo spazio per tutte le variabili poi esegue le due funzioni di inizializzazione e poi esegue la funzione draw adesso qui diciamo non vi fate ingannare questa function draw questa riga qua è la dichiarazione della funzione draw così come sotto ci sono dichiarazioni di altre funzioni ok quindi quello che qui non si vede e uno poi tende a dimenticarsi è quello che fa l'ambiente è legge tutto il codice le dichiarazioni di funzioni esegue le eventuali funzioni invocate direttamente e poi ripete in eterno un ciclo di invocazione della funzione draw ok questo diciamo è un passo concettualmente fondamentale perché altrimenti non 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 capite che cosa accade ok in questa funzione trovo una cosa diciamo importante che non bisogna mai dimenticarsi è l'invocazione della funzione draw sprites ok perché questa è quella che disegna i personaggi di sprite effettivamente sullo sullo schermo gli sprite forse li avete incontrati diciamo in qualche altro ambiente se avete partecipato al concorso di cod.org alle scuole medie mi pare che per le scuole medie facciamo fare usare l'ambiente dei personaggi degli sprite sono delle diciamo icone che stanno sullo schermo uno può animare può spostare e può fare una serie di cose ok quindi la funzione draw che viene invocata in continuazione deve avere dentro questo trovo sprites perché sennò di fatto non vedete niente insomma se 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 non dite alla funzione trovo di disegnare gli sprite non non vedete gli sprite ok l'idea è che tra l'ambiente invoca in continuazione trovo dentro la drovo è descritto trovo sprite e tra un'invocazione dell'altra nella funzione trovo e fate delle cose che espostano questi sprite e si vede quello che si vede quello che accade vediamo un po suggerisce blocchi colorati forse si capisce meglio il codice perché certi pezzi forse sì ok ok adesso qui a parte quello che c'è nella funzione trovo la cosa fondamentale è il dro sprite in in giallo allora con l'occasione dro sprite lo vedete è questo blocco giallo qua quando andate qui a sinistra se lasciate il mouse appare si examples se cliccate visualizza la pagina del manuale su questa funzione con degli esempi di utilizzo e quindi uno poi diciamo vedete gli esempi capisce come funzione poi c'è la sintassi c'è la spiegazione dei parametri e così via e questa è la pagina di questa funzione la uno la può aprire qui in un nuovo in un tab a parte e ce l'ha e poi qui c'è diciamo può muoversi da una sezione all'altra no la function dro e quello di cui abbiamo contata con con spiegato prima ok allora torniamo qua qui chiudiamo la funzione ok adesso quello quello che accade quindi è che questa funzione dro gestisce nella sua prima parte la visualizzazione delle istruzioni ok con questa utilizzando questa variabile di controllo e poi gestisce lo spostamento del personaggio gli ostacoli nemici il diamante e tutto quello che serve per per eseguire il gioco allora fino a questo momento immagino che insomma dovreste aver dovreste star seguendo non è non è complicato però poi riuscire a a entrare in questo in questa in questa modalità non è diciamo non è semplicissimo non è complicato non è semplicissimo allora guardiamo adesso come fu come funziona questo visualizza istruzioni ok visualizza istruzioni è la funzione che sta così cominciamo a vedere i singoli pezzi dell'ambiente scusate passo così che lo vedo meglio c'è una funzione di ricerca e contro le f visualizza non era questo ecco qua ok qui troviamo alcune alcune istruzioni che sono fill text e poi una una di controlla la fila text sono funzioni legate al 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 testo in che in che ambiente stanno qua non sono sprites disegno drawing eccolo qua text serve per scrivere un testo fill serve per dire in che colore verrà scritto il testo quindi fill red riempi la penna fill vuol dire riempi la penna di rosso e poi scrivo il testo e in che posizione lo scrivo ok quindi qui si scrive tutto questo testo e osservate poi che c'è questo controllo che mi permette di passare dalla fase di visualizzazione del testo alla fase di gioco una domanda che può avvenire che può venire spontanea ma perché questa funzione visualizza istruzioni io la devo mettere all'interno del ciclo dro ogni volta perché se no non serve a niente perché tutto quello che va a fare delle cose sullo schermo e di fatto viene immediatamente dopo annullato dalla faccia androce questa visualizza istruzioni io la mettessi adesso ve lo faccio vedere così toccate con mano se io la metto qua questa diciamo non fa niente perché poi viene eseguita ma poi fa cioè la function dro ok mi sono appena contraddetto ah no scusate ecco qual è il problema ok il problema è che sì le istruzioni io le posso visualizzare però poi non riesco a gestire il controllo ok infatti adesso premo la barra spaziatrice ma non accade niente nonostante il controllo sia dentro visualizza istruzioni quindi lo rimetto qua dentro e andiamo avanti così ok allora quindi al fino a questo momento abbiamo visto text e fila quindi sono le soluzioni di testo che cosa c'è dentro visualizza istruzioni andiamo a riprendere anche ok c'è questa istruzione di controllo if che è relativa al al controllo questi blocchi gialli fanno parte della categoria world il mondo e si riferiscono a come l'ambiente interagisce col mondo chi da un è una funzione che mi dice se il tasto con un certo codice è stato premuto chi è tasto da uno vuol dire giù con un certo codice oppure un tasto identificato in qualche modo simbolico per esempio qui vedete che non c'è un codice c'è doppio abice doppio abice space che poi in genere diciamo uno lo fa lo fa lo fa in questo modo qua ok di nuovo qui quando uno va sopra si è esatto c'è il manuale e per esempio qui c'è un esempio vedete utilizza i tasti numerici questi esempi che trovate sono interessanti perché sono il modo migliore di capire come funziona il codice questo è un piccolo esempio uno lo prende lo copia lo mette in un nuovo progetto se non faccio errori va bene però diciamo che adesso non so come fare aprire un'altra un'altra finestra senza sporcare questa però uno lo sperimenta quando uno sta imparando lo sperimenta quindi qui c'è il controllo del tasto premuto e così come c'è il controllo del tasto premuto ci sono tanti altri controlli il fatto che il tasto sia premuto il tasto del fatto che sia giù non sia stato premuto sia giù il tasto che il fatto che il tasto sia stato premuto e sia andato giù ma anche se adesso non è più giù che è andato su vari controlli sul movimento del mouse io non diciamo non sto a spiegarvi di questi tutti uno per uno se no ci mettiamo a notte però facciamo notte e questi sono nella 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 categoria gialla ci sono tutti gli controlli dell'ambiente che vi permettono di interagire con il resto del mondo e il controllo dei tasti è una cosa una cosa fondamentale ok 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 allora torno su torno su quindi questa è la visualizzazione delle soluzioni e ricordati dentro visualizzazione c'è il controllo se il tasto è stato premuto se il tasto è stato premuto si mette la variabile e a falso siccome lui continua a fare dro 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 in continuazione la volta che la trova falso non fa più quel pezzo e fa questo pezzo di sotto ok giusto per farvelo vedere questa è la parte iniziale premo la barra spaziatrice e parte ok quindi in questo momento noi abbiamo messo spiega false e stiamo facendo questa 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 cosa qua ok adesso qui c'è un aspetto abbastanza importante da capire che è questo allora voi io faccio reset qui voi sapete che questa questo quadrato qua è un quadrato di 400 per 400 la coordinata 00 in alti a sinistra poi c'è la x che va da sinistra a destra dovresti vedere i numeri sullo schermo e questo va da sinistra a destra ok e anche la y va dall'alto in basso e ovviamente se il gioco rimane solo in quell'ambiente quattrocento per quattrocento lo lo spazio di manovra è è piccolo insomma non è che può fare molte cose tipicamente le cose che si riesce a fare ci sono dei dei nemici da una parte sopra sotto destra sinistra c'è il giocatore dalla parte contrapposta i nemici lanciano degli ostacoli il giocatore li evitano finisce tutto così allora noi qui invece avete visto abbiamo il personaggio che si muove in uno spazio che si muove in uno spazio che è grande no perché ve lo faccio tolgo la griglia ve lo faccio rivedere di nuovo io mi muovo e e vado avanti ok ora questa cosa qua in realtà è un'illusione in che senso un'illusione è un'illusione nel senso che questo personaggio qui che è rappresentato dalla variabile personaggio quindi uno sprite questo è uno sprite la sua posizione x in realtà non cambia mai ok perché non è perché non cambia mai perché se io facessi cambiare la posizione x di questo personaggio quando questa posizione x va al di là dei 400 e io ce l'avrei fuori dallo schermo e non lo vedrei più questo diciamo è un passo fondamentale se non l'avete capito scrivetemelo così lo ripeto quindi poi purtroppo non c'è non c'è il video ok però appunto il 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 francesco ce l'ho qua la lavagna sì dunque andando in alto dove c'è you are viewing ericone degli screen lì sopra dovresti avere i comandi anche per attivare la lavagna ma devo dire devo devo togliere la condivisione schermo non credo forse view option stesso annotate a nota però me lo fa fare sopra lo schermo sullo schermo puoi fare in un angolo sì allora immaginate che questo è lo schermo ok e io poi c'ho il il mio personaggio che sta in una certa posizione metti che sta qua ok se quando lo sposto gli dico aumenta la x di questo personaggio il personaggio va a finire qua ok e poi va a finire qua e poi va a finire qua nel momento in cui va a finire qua la sua x va a finire là diventa maggiore di 400 io non lo vedo più ok quindi io non posso tenere fisso lo sfondo e far muovere il personaggio sullo sfondo perché a un certo punto la cosa scompare quindi maria grazia giustamente ha capito che lo sfondo che scorre è al contrario come quando sul treno guardate il treno accanto e vi chiedete ma sono partito io e partito lui l'effetto è questo noi facciamo scorrere lo sfondo indietro ok quindi quello che accade è dove qui la gomma questa qua e che questo personaggio sta là su un certo sfondo che immagina immaginare perché adesso ha scusate non ho cambiato la matita dove la matita c'era la gomma mi serviva la matita c'è solo il problema che quello che scrivi sullo schermo arriva un po in ritardo rispetto alla voce adesso mi sono perso mi sono mi sono perso la matita ma ecco la quarta nuova ok allora quindi io lo sfondo che questo questo diciamo nel nostro caso è perché noi abbiamo fatto un gioco che si muove in orizzontale e poi abbiamo questa finestra adesso le disegno un po sfalsate e che cosa accade quando il personaggio di gli diciamo di spostarsi non cioè se il personaggio si sposta a destra non accade che appunto il personaggio va a finire qua diciamo perché sennò ci perderemmo le cose quello che accade è che tutto lo sfondo viene spostato più a sinistra quindi adesso provo a fare così tutto lo sfondo viene spostato di nuovo se ne va a un certo punto si perde non ho capito che cosa che è successo ho smesso la condivisione ok annota ok la matita questa fa blu quindi quello che è successo è che si è spostato lo schermo più a sinistra la nostra finestra quindi è andata a finire un po più a destra ok io spero che così la cosa sia siamo un po più chiara ok non mi fate domande diciamo su sui tanti dubbi che vi vengono in mente perché non posso rispondere a tutti e quindi sto cercando di seguire un filo quindi questa cosa era era diciamo fondamentale perché richiede un po un po di tempo per essere metabolizzate quindi ve l'ho detta ve l'ho detta ve l'ho detta subito ok quindi quando io sposto eh il personaggio eh verso destra in realtà sto spostando lo sfondo verso sinistra ok adesso noi abbiamo il personaggio abbiamo lo sfondo ma i nostri attori non sono soltanto questi non sono soltanto personaggio e sfondo ci stanno anche gli ostacoli ci stanno anche i nemici l'ape lo scarafaggio c'è anche il diamante che vado a cercare ok quindi che cosa accade se io realizzo lo spostamento del personaggio a destra spostando lo sfondo a sinistra come devo spostare gli oggetti i nemici gli ostacoli qualcuno che si vuole lanciare quindi io sposto il personaggio a destra spostando lo sfondo a sinistra su questo sfondo ho disegnato un ostacolo lo vedete per esempio qui no questo questo scarafaggio quando lui si sposta da una parte quando il personaggio non mi fa interagire quando sono in modalità devo togliere l'annotazione ok ok quindi quando io vado a destra ok dovreste capire che cosa faccio con gli oggetti sposto a sinistra anche l'ostacolo ok claudia bene quindi questa come dire questa modalità di creazione del gioco è un po contorta è come scrivere guardando nello specchio quello che uno scrive poi insomma con un po di allenamento ce la fa però quindi se il personaggio è visibile io gestisco lo spostamento e qui dentro ci stanno tutte queste cose che poi andremo a vedere ok cioè qui ci stanno c'è lo spostamento del personaggio e della e della e dello sfondo lo spostamento degli ostacoli della del nemici e dello sfondo anzi meglio la gestione si fa qua dentro lo spostamento nudo e crudo ero stato impreciso si fa tutto dentro dentro questa funzione qua ok che cosa si va dentro i gestisci dentro il gestisci si gestisce appunto il fatto che ve lo faccio vedere qui sul gioco allora io mi sto spostando verso destra quindi la funzione di spostamento sposta lo sfondo e tutto verso sinistra a un certo punto però io andrò in collisione con l'oggetto e va gestito questo evento qua il fatto che sono in collisione con l'oggetto oppure va gestito il fatto che sono in collisione con l'ape vedete l'oggetto sono in collisione sono tornato indietro io l'ape è tornata indietro lei il diamante è scompa scompare e va a finire un po più avanti ok quindi queste sono le tre queste tre funzioni adesso per come abbiamo organizzato questo gioco questo si fa solo quando un certo simbolo della vittoria visibile ma questo diciamo un dettaglio di secondo livello che potremmo affrontare più avanti infine ci sono le ultime due funzioni che sono le regole del gioco che stabiliscono come passare da un livello all'altro e la visualizzazione dello stato che si occupa di far vedere lo stato a livello si sta quanta energia sia e così via ok e di nuovo questa cosa si fa ogni volta ogni volta ogni volta ogni volta e questo di nuovo fa sì che poi il codice sia scritto in un certo modo perché ognuna di queste funzioni viene sempre eseguita in continuazione questo insomma se avete scritto un po di cosa c'è un po diverso da come uno imposta i programmi ma questo dipende dal fatto che il questo ambiente un ambiente orientato ai giochi in cui c'è questa funzione che va va a ripetizione ok allora tutti questi oggetti qua il personaggio ci sono degli sprite sprite che stanno qua dentro nella categoria arancione sprite lo spate abbiamo detto è un personaggio è una cosa che io vedo sullo schermo e posso spostare posso animare e da un punto di vista del programma il mio sprite è una variabile quindi in questo programma qui nella parte iniziale vedete io ho commentato le varie variabili che utilizzo le prime mi servono per le regole del gioco aspettate che cancello questa questo disegno qua ok quindi le prime mi servono le regole del gioco queste sono le variabili per gli oggetti del gioco quindi queste sono quelle variabili infatti vedete che sono tutti i create sprite quindi ognuno di questi è uno sprite anche lo sfondo per uno sprite e poi ci stanno delle altre variabili che guardiamo dopo ok quindi ricordatevi che gli oggetti che volete far vedere sullo schermo devono essere variabili che devono essere create mediante l'azione create sprite che sta qua e c'ha dei parametri che noi qui non assegniamo vedete che la creazione degli sprite qui è tutta senza parametri quindi non gli da queste cose qua perché uno poi queste cose le capisce man mano che diventa più bravo il 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 queste cose qua queste inizializzazioni degli sprite vengono fatte in questi due funzioni inizializza oggetti inizializza posizioni ok magari appunto andatevi a guardare cosa lo spread che cosa va però vedere quali sono a molti parametri x e y sono sulla posizione c'è anche una velocità quanto può essere grande quanto è alto basso largo e così via allora in teoria diciamo il seminario era previsto fino alle sette e mezza però io diciamo almeno dieci quindici minuti avanti proseguirei se voi siete d'accordo insomma so che tutti noi abbiamo anche una famiglia qui a cui stare appresso quindi non è che possiamo andare andare oltre però se se insomma almeno altri dieci quindici minuti me li 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 facciamo ok allora gli sprite c'hanno tutta una serie di cose su cui torneremo torneremo dopo torneremo dopo andiamo a vedere quindi adesso torniamo nello nello spostamento torniamo nello spostamento la funzione di spostamento abbiamo detto abbiamo capito il concetto no lo spostamento mi deve spostare mi deve far vedere che il personaggio si è spostato a destra mentre in realtà tengo il personaggio fisso sposto tutto a sinistra e questo è vero perché io nella progettazione iniziale ho detto il mio gioco si svolge in una striscia orizzontale se io avessi voluto far svolgere il gioco in una striscia più grande la cosa che facevo destra sinistra devo fare alto basso se volevo farlo soltanto in verticale analogamente dovevo farlo doveva una striscia uno sfondo verticale muoverlo e muoverlo analogamente allora andiamo a vedere la zona del codice che si occupa dello spostamento eccola qua spostamento del personaggio vedete che ci sono una serie di funzioni adesso scusate se faccio una cosa che vado in testo perché in testo mi può far vedere posso compattare le funzioni perché queste qua salva posizioni ripristina posizioni decrementa posizioni incrementa posizioni sono funzioni secondarie che sono tutte governate dalla funzione principale che è quella di spostamento ok adesso quando rimette il codice niente va così quindi andiamo a vedere la funzione di spostamento spostamento usa le altre funzioni adesso analizziamo questa e poi probabilmente basta per stasera allora siccome il nostro gioco è destra sinistra alto basso le cose sono semplici quindi quando io premo il tasto in alto vado in alto quando prema il tasto basso vado in basso no e questo si fa molto semplicemente adesso trascuro per un attimo questa funzione qua ci sono questi due if se il tasto verso il basso è premuto quindi se tasto premuto chi dà un vuol dire tasto premuto se il tasto premuto e down che indica la freccetta verso il basso allora la y del personaggio viene incrementata di questo passo che è un parametro della è una delle variabili che compaiono dall'inizio posso decidere io ogni volta che premo il tasto di quanto di quanto si sposta ok in questo caso mi pare che sia cinque ora osservare che lui si sta spostando di un pezzettino no perché io sono molto veloce nel premere il tasto se io lo tengo premuto c'è la funzione draw che viene ripetuta in esecuzione dentro la funzione però c'è la funzione spostamento dentro funzione spostamento c'è if key down down quindi se il tasto sei giù il tasto down lo incrementa quindi se io tengo premuto il tasto down lui va giù poi smette di andare giù questo lo vedremo tra un pochino e di nuovo se va su se sono dopo che non tocco si sposta di poco se no continua andare su ok e qui il movimento è semplice qui io come vedete sposto effettivamente modifica effettivamente lì la y e lei la y la y e questa parte da zero in alto e arriva a 400 in basso quindi quando vado giù devo incrementare il passo quando vado su devo decrementare il passo insomma per quelli di voi che fanno matematica non è nient'altro che uno spostamento sul piano cartesiano d'accordo ora perché non va più in giù di un certo livello non va più su di un certo livello per quello che ho detto prima perché sennò io me lo perderei e quindi immediatamente dopo che ho fatto questo questo spostamento in su e in giù faccio un test per bloccare lo spostamento del personaggio se la sua y non è maggiore di 3 40 la rimetta 3 40 se quindi evito che vada a finire in basso se minore di 80 la netto 80 giusto per far vedere se io qui ci metto 5 e 40 che cosa accadrà provate a pensare che cosa può accadere prima che io lo faccio vedere 5 e 40 sono le y non verso il basso quindi di su lui sta bloccato di giù se ne va se ne va in realtà a un certo punto ricompare perché sopra il 5 e 40 viene riportato oltre e 40 ok bene quindi lo rimettiamo così come stava una cosa analoga viene fatta per lo sfondo però prima di dice viene bloccato lo spostamento dello sfondo no se vedete se io devo farlo ripartire se io tento di andare più a sinistra di così non ci vado no quindi anche questo viene bloccato però per guardare questo dobbiamo fare un'altra riflessione e che è seguente che la seguente io mi sposto verso destra mentre mi sposto verso destra lui sposterà i personaggi verso sinistra però può accadere e tutti gli altri ostacoli verso sinistra però può accadere che mentre io mi diciamo mi sposto verso destra risposta verso sinistra c'è un diciamo un si incontra un ostacolo e quindi qualche cosa deve 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 cambiare allora io faccio questa cosa nello spostamento salvo la posizione corrente di tutti gli oggetti questa salva posizioni è una funzione che di nuovo come tutte le altre funzioni che stanno dentro trovo viene seguita ogni volta ogni volta salva la posizione di tutti gli oggetti poi si chiede il personaggio dove è andato immaginiamo che il personaggio sia andato a destra ok se il personaggio è andato a destra allora io devo spostare tutto a sinistra e questo lo faccio con questo decrementa posizioni se in questo ciclo il personaggio va dall'altra parte io devo fare incrementa posizioni quindi vedete che quando il tasto left freccia sinistra è premuto io incremento le posizioni che vuol dire che sposto tutti gli oggetti un po più a destra altrimenti risposto verso sinistra e se però appunto nello spostare a sinistra in realtà non devo spostare perché verso sinistra o sono andato a sbattere questo incremento e c'è una cosa malaga anche dall'altra parte questo incremento lo devo bloccare che vuol dire devo bloccare lo devo ripristinare che devo fare la stessa cosa che ho fatto qua per il personaggio vedete se il personaggio la sua y diventa più grande di 340 la rimetto a 340 se diventa minore di 80 verso l'alto la rimetto a 80 quindi io cosa faccio mi salvo le posizioni poi se sono in uno spostamento destra sinistra normale sposto lo sfondo a sinistra se il mio personaggio si è spostato a destra o a destra se mi è spostato a sinistra dopodiché però verifico di non essere arrivato al bordo e se sono arrivato al bordo ripristino quelle posizioni che mi ero salvato all'inizio quindi questo salva posizioni qua mi salva le posizioni per ripristinarle soltanto nel caso in cui lo sfondo e tutti gli altri oggetti sono andati troppo in là ok quindi entra in azione quando io qui arrivo a sinistra mi blocca lo spostamento a sinistra la stessa cosa c'è anche a destra se io qui porto il personaggio tutto a destra vedete che un certo punto lui smette di andare avanti non va più avanti quindi questo vuol dire che in questo ciclo qua dopo salva posizioni è stato fatto key down right a destra sono state decrementate le posizioni quindi in realtà lo sfondo si sarebbe sposato a sinistra però non l'ha non l'ha ripristinato ora qui ci sono questi due parametri abbastanza particolari che perché sono esattamente quei valori valori sono quei valori perché dipendono dalla grandezza dello sfondo lo sfondo è grande il doppio di quello è grande 2560 pixel ok è grande e quindi aspettate che vi faccio di nuovo il disegno perché così ok quindi lo sfondo è 2560 pixel quindi questo è 2560 ok quindi questo rettangolo è lungo 25 e 60 io ho la mia finestra e qui mi faccio in realtà la prima domanda se io voglio che la mia finestra sia qua quale deve essere la posizione x iniziale dello sfondo c'è una cosa che non vi ho detto che come si misura la posizione x iniziale cioè c'è questo sfondo è un oggetto grande no è uno sprite lo sprite vi anticipo al volo qui lo sprite c'ha una una un'immagine appunto che si vede in questo pezzettino animation questa è la sprite dello sfondo ok e questa è grande lo vedete scritto qua 2560 pixel e dicendo che la sua posizione x iniziale che la posizione centrale dell'icona sta a 1280 io di fatto sto mettendo il suo punto centrale a 1280 che diciamo adesso qui non è in scala perché questo qua è quattrocento e questi diciamo non è sei volte questo però sostanzialmente io sto mettendo la 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 il centro dell'immagine sufficientemente a destra della dello schermino rosso quindi sto mettendo il centro della 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 dell'immagine sufficientemente a destra perché il bordo sinistro dell'immagine coincida con il bordo ok e quindi quando poi io mi sposto verso destra in realtà lo sfondo si sposta verso sinistra quindi questi 1280 diminuiscono questi 1280 diminuiscono lo sfondo si sposta verso destra e questo magico numero 880 e mi rappresenta semplicemente il fatto lo ridisegno diciamo qua sotto che questo è sempre il mio il mio la mia finestra mi presenta semplicemente il fatto che il mio bordo destro dello schermo sta qua ok quindi il suo punto centrale quello la che rispetto all'immagine è sempre 1280 sta in realtà a meno 880 perché meno 880 è quanto sta dal punto centrale al bordo sinistro i 400 del bordo sinistro quindi 1280 e scusate 880 è questo spazio qua non è in scala mentre questi sono 400 la finestra e quindi quando quello sta a meno 880 il bordo destro dell'immagine sta sta lì alla fine ok quindi questi due numeri sembrano magici e magari insomma adesso siete un po' confusi però se se lo fate con carta e penna e diciamo vi dovrebbe tornare abbastanza facilmente richiede un ragionamento al contrario perché è quello che si sposta e quindi è lo sfondo che si sposta rispetto alla finestra mentre la finestra rimane ferma quindi questo blocco di spostamento e fa queste cose qua sposta il personaggio non abbiamo visto il dettaglio però adesso diciamo riprendiamo da quella prossima volta non abbiamo visto il dettaglio di come vengono salvate e ripristinate le posizioni e e poi abbiamo soltanto accennato il discorso delle diciamo delle delle immagini relative delle bit ma per relative alle animazioni e anche questo lo riprendiamo la prossima volta allora la prossima lezione sarà diciamo non sappiamo ancora con che ambiente la faremo però vi avviseremo diciamo siamo a questo punto la soluzione abbiamo due soluzioni da poter scegliere io questo questo allora questo link di questo progetto lo mettiamo sulla pagina del 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 sito dove ci sono tutte le istruzioni sul tutte le istruzioni sul sul corso in modo tale che insomma se volete potete guardarvelo per conto vostro e fare degli esperimenti andare avanti un po studiando le varie lezioni se accedete al codice diciamo al corso di cod.org trovate che tutto è spiegato molto molto in dettaglio quindi se avete tempo perché poi queste cose dipendono dal tempo che uno ha potete approfondire delle cose per conto vostro se no noi ci rivediamo la settimana prossima e continuiamo appunto a spiegare l'ambiente a spiegare le varie cose dell'ambiente sempre partendo da questo da questo esempio da questo esempio qua e giochi 3d no questo ambiente non li supporta sono soltanto giochi in in due dimensioni tutte le informazioni per partecipare stanno sulla pagina sulla pagina del sito dedicata del sito di programma il futuro dedicata ai giocoliere del codice c'è anche il calendario non è alcuni giorni e mercoledì alcuni giovedì comunque insomma tutte le informazioni operative stanno messe là e ci sarà messo anche questo questo progetto qua ricordatevi quando voi per accedere a questo progetto qua voi dovrete essere aver fatto login su cod.org e e poi dovete fare remix o rimescola a seconda servita l'interfaccia italiana in inglese perché se no non potete modificarlo potete soltanto giocarci o vedere il codice ma non potete modificarlo per modificarlo dovete fare remix o rimescola ok allora come dire spero che sia stato più interessante oltre a quelli che l'hanno scritto e lo vedremo la prossima volta buona serata buona cena e alla settimana prossima arrivederci a tutti arrivederci a tutti arrivederci